I compressori, tutti li usano, pochissimi li sanno usare Cosa fa sto benedetto compressore? Perché vedo molta gente che li schiaffa de qua e de là, catene dei compressori, tutto compresso, un compressore su ogni traccia Un compressore è un processore dinamico che automatizza un'attenuazione del nostro segnale d'ingresso È un attrezzo che prende il nostro segnale e ne abbassa periodicamente il volume Ogni compressore moderno ha almeno questi quattro parametri Threshold, Ratio, Attack e Release La threshold non è altro che il livello in decibel superato il quale il nostro compressore inizia ad abbassare il volume Ad esempio un segnale a meno 10 decibel che passa dentro un compressore con la threshold a meno 12 supera la threshold di 2 decibel Quei 2 decibel verranno ridotti di volume Di quanto? Qui entra in gioco la ratio La ratio o rapporto di compressione indica semplicemente di quanto diminuirà il volume il nostro compressore Ad esempio nel caso di una ratio 2 a 1 i nostri 2 decibel di segnale subiranno un'attenuazione pari alla metà del loro volume Ovvero 1 decibel In parole povere questo rapporto ci dice Mettiamo che il segnale di entrata sia 4 In uscita voglio un segnale che in proporzione valga 1 L'Attack e la Release poi non sono altro che parametri che dicono al nostro compressore Quanto velocemente o quanto lentamente iniziare ad abbassare il volume o smettere di abbassare il volume nel caso della release Un segnale come questo compresso con un attacco veloce e una release lenta verrà trasformato in un segnale più o meno come questo Mentre sempre il nostro segnale originale compresso questa volta con un attacco lento e una release rapida Somiglierà di più a questo Molto spesso ma non sempre Comprimere serve per alzare il volume Un compressore con attacco rapido andrà ad abbassare i nostri picchi Facendoli assomigliare di più alla coda del nostro segnale Uniformando il volume e dandoci la possibilità di alzarlo senza superare lo zero E quindi senza clippare Se ti è piaciuto il video ricorda di iscriverti al canale e attivare le notifiche Ciao